benvenuti in questo nuovo video approfondimento ma anche teoria toccheremo tutti e due i temi la domanda è lucky il potere più forte one piece proviamo a rispondere innanzitutto prendiamo come frame concettuale che nel post time skip lucky è stato ben esplicato bene spiegato da oda mentre nel pre time skip lucky era sì presente ma era esplicato abbastanza male infatti c'era e c'è molta confusione su questo tema questa premessa questa introduzione questo preambolo è molto importante e fondamentale per l'intera comprensione del video a skype ad esempio avere il mantra così chiamato ma non era altri che l'acchi della percezione che veniva usato da enero che però ovviamente ampliare il suo potere anche grazie al potere del suo frutto ai tamburi che aveva sulla schiena quindi aumentava quelle che erano le sue capacità grazie all'elettricità le sorelle di boehancock ad esempio loro sembrano utilizzare l'acchi dell'armatura questo qui speciale questo qui con il palmo della mano questo qui che vediamo utilizzare a wano quello che usano anche sento maru ovviamente reline flashback dell'allenamento con rufi e poi ovviamente yogoro eccetera eccetera nel pre time skip coloro che ci mostrano l'aghi del rea in modo incredibile sono shanks che ci impressionò tutti rompendo parti delle navi di newgate poi rufi lo fece sull'isola di boa a impel down a marineford eccetera eccetera sempre a marineford gli ammiragli sembrano usiamo il condizionale usare l'aghi dell'armatura ma anche quello della percezione dracul mi hawk usa l'aghi della percezione infatti riesce a trovare rufi in mezzo a tantissimi avversari e persone marine pirati eccetera un altro esempio è zoro contro mister one il respiro delle spade il respiro di ogni cosa un grande spadaccino può tagliare tutto e non può tagliare niente e lo disse koshiro il suo maestro ma l'ha ripetuto yogoro nel wano kuni ovviamente queste che noi abbiamo detto ed elencato sono tutte possibili retcon che oda potrebbe usare delle bozze quindi sì la chi c'era nel pre time skip ma oda non l'aveva ancora spiegato bene esplicato bene mostrato come si deve quindi noi preferiamo non prendere per filo e per segno quello che è successo nel pre time skip senza fare quindi nessuna retcon ma accontenteremo tutti voi prendendo le situazioni che si sono viste e concretizzate nel post time skip ovviamente stiamo parlando solamente a livello di aki e ci roda in 25 anni di narrazione ha cambiato sicuramente la traiettoria ricorderete con grande nostalgia le vittorie contro enero e crocodile dove rufi utilizzò delle scamotage con crocodile mentre era immune perché di gomma ad enero oppure il fatto che non riusciva a coprire smoker eccetera eccetera però per dare una lettura vera e propria del post time skip dobbiamo prima sottolineare e dividere i tre aki che tutti noi conosciamo iniziamo dall'achi della percezione quello normale cioè si percepisce la presenza di una persona di un animale di un nemico il secondo step riuscire a vedere le persone anche a lunga distanza si può vedere la loro energia si può percepire dove sono lo fece uso adresse rosa oppure addirittura come fece fuggitora anche gli adresse rosa nonostante avesse perso la vista no sappiamo che c'è come riusciva a percepire tutti quelli che gli erano intorno quello finale quello più diciamo avanzato diciamo questa parola è quello che hanno usato rufi katakuri anche kaito vedere il futuro a chi dell'armatura degli armamenti la base e l'annerimento ti consente di colpire personaggi come smoker e crocodile e così via che di base erano intangibili poi abbiamo il ciliegio fluente il riuo il flusso che è sempre la ghia dell'armatura ma viene così definito nel wano kuni e anche esso si divide a sua volta poi in tre step quello lì di emanazione tra virgolette quello che viene buttato fuori con il palmo della mano no ma anche con i pugni eccetera relli che fa volare l'elefante yogoro che mette ko al pakamen i foderi rossi nelle spade zoro nelle spade rufi lo apprende a udon flusso poi secondo step utilizzato come cornice del corpo come barriera come protezione lo usano kaito big mam rufi yogoro e così via terzo ed ultimo step il flusso che consente di distruggere dall'interno lo so relli per salvare kemi togliendo ciccolare l'ha usato rufi per salvare a lui e yogoro a udon togliendo i collari ma anche per togliere le manette a yamato e rufi poi ovviamente lo usa per combattere contro kaito e lo usa ben donde grandissimo rufi ed è il massimo dice yogoro si è andato oltre ogni mia più fervida immaginazione mugiwara e questa è una cosa incredibile no dicendo che il cappello di paglia utilizzava un aki dell'armatura che andava oltre qualsiasi altra cosa adesso passiamo all'ultimo a usho no aki l'aki del re conquistatore la base di questo aki permette di far venire personaggi personaggi che ti sono vicini ovviamente se sono deboli quindi è come se la forza di volontà sprigionando questo aki li facesse svenire e così succede ovviamente se si impara bene ad usarlo si può far svenire le persone che si vogliono cioè nel senso che si mira quasi chi dove far svenire e chi no quando si diventa bravo quello più clamoroso quello la più forte quello la più incredibile lo step fantasmagorico è quello che ci fa colpire combattere danneggiare in modo fisico gli avversari lo usano biggum che però ogni tanto si è dimenticata purtroppo nello sconso gli occhi dell'oro lo usa kaito continuamente lo usa shanks sembra quasi telecomandarlo lo usa new gate lo usa roger lo usa rufy abbiamo visto rufy contro kaito no e ogni volta che due yonko ma anche quando hanno fatto roger e new gate si scontrano con questi aki il cielo si divide si aprono le nuvole rufy di alfif ovviamente ha utilizzato il massimo potere del frutto e i massimi aki ma ne parleremo più avanti in diversi capitoli abbiamo avuto vari esempi dell'utilizzo dell'aki e dell'importanza dell'aki come nel capitolo 1001 già vi è un accenno dell'importanza dell'aki utilizzato da rufy infatti sembra l'unico modo attraverso il quale è possibile ferire kaito ciò si evince sia dalle parole di kid di lo di zoro sia dalle parole dello stesso kaito che paragona rufy a mostri come roger new gate rox oden e shanks quindi ragazzi non era un caso questo ovviamente riguardava l'aki dell'armatura però noi parliamo sia di armatura che poi dire infatti nel capitolo 1010 viene rappresentato un altro tassello fondamentale per esplicare l'importanza dell'aki in primo luogo tramite le parole di kaito in riferimento a zoro dopo aver utilizzato la tecnica asciura kaito infatti asserisce che anche zoro possiede l'aki del re in secondo luogo vi è il power up di rufy ossia riuscire ad infondere nei colpi l'aki del re conquistatore kaito dice che solo i più forti solo i migliori possono utilizzare tale tecnica da lì scaturisce uno scambio di colpi straordinario tra rufy e kaito e di fatti lo asserisce che rufy colpisce kaito senza nemmeno toccarlo collegandoci al capitolo 1047 invece possiamo trovare un altro riferimento fondamentale all'importanza dell'aki e nello specifico all'aki del re tramite le parole di kaito infatti l'imperatore senza mezzi termini disse rivolgendosi a rufy ricorda i poteri del frutto non permettono di soggiocare e mantenere il controllo del mondo roger è stato capace di grandi cose senza il potere di un frutto solo l'ambizione solo l'aki supera ogni cosa non è un caso quindi che kaito ci fece il palese esempio di gol di roger il re dei pirati che solo tramite l'ambizione l'aki riuscì a raggiungere la vetta al riconfermo di tale concetto infatti via il capitolo 1055 in cui viene mostrato ancora una volta l'importanza e lo strapotere dell'aki del re utilizzato in questa cosa da shanks che sembra quasi direzionare telecomandare tale hachi in quel caso contro l'ammiraglio aramaki e quest'utilizzo avviene da una notevole distanza adesso voi direte quindi l'aki è tutto fermi un attimo allora innanzitutto vi ricordo che il gear fort di rufy è una combinazione di aki e di frutto quindi senza l'aki non sarebbe venuto il gear fort il fenomenale uomo rimbalzo lo snake man e il tank man ma allo stesso momento è il frutto che permette di modellarsi grazie all'aki il gear fit è la stessa cosa perché lo stesso kaido dice che rufy sta usando gli aki ai massimi livelli mentre riesce a modificare col suo frutto l'ambiente circostante l'avversario è se stesso poi l'ultimo colpo di rufy è palese utilizzo di massimi aki e massimo frutto però ricordatevi cosa dice come mi ha insegnato yogoro io ti batterò senza toccarti nonostante kaido avesse attuato una tecnica fantasmagorica cosa significa questo che è vero in percentuale noi potremmo dire il potere più forte del manga è l'aki mediamente ma non vale sempre ci sono poteri dei frutti esagerati quello di kaido quello di big man quello di ro risvegliato poi c'è l'eccezione alla regola proprio per sommi capi rufy il frutto leggendario nika joy boy quello che non si risvegliava da 800 anni lo zoan mitologico del dio rufy supererà a tutti anche roger roger aveva conquistato il mondo grazie ai suoi aki però rufy lo supererà grazie agli aki e al frutto quindi ci sono stati personaggi con l'aki e basta no roger ray lee garp shanks miwok eccetera eccetera però l'importanza anche dei frutti è palese per gli altri personaggi che vi ho elencato prima ovviamente ribadiamo che rufy è un mix e per questo sarà la vera leggenda di one piece quindi adesso vi chiediamo secondo voi qual è il potere più forte one piece l'aki il frutto o tutte e due come rufy mettete l'hashtag aki e diteci voi cosa ne pensate qui nei commenti 1 2 3 commenti 1 2 3 domande iscrivetevi cliccate la campanellina e vi aspettiamo molto presto sempre qui nel canale della verità grazie a tutti